Reghiera a Maria, Vergine della Quaresima, di Padre Antonio Lungi. Maria, Madre della confessione, in questo tempo di Quaresima, guidaci nel cammino che porta a Gesù, unico Salvatore e Redentore dell'umanità. Fa, oh Vergine della Quaresima, che in questi giorni di ascolto, previere a penitenza, ogni uomo credente nel Vangelo, e che sa di essere polvere e in polvere ritornerà, possa sperimentare la misericordia di me nel sacramento della ripongigliazione e del perdono. Nell'assiduo ascolto della parola di Dio, nella celebrazione quotidiana della liturgia eucaristica, nella carità senza limite verso ogni fratello di questa terra, possa diventare un vero adoratore di Dio, di Spirito e di Redentore. Oh Maria, Madre del Vincone, Madre del Cristo dedicato nel deserto, per pregare, fare penitenza e prepararsi alla lunga del sole, Dio, ottieneci dal Tuo Figlio, morto e risorto per la vostra sorriscia, la grazia di non abbandonarci nella tentazione, ma di liberarci dal mondo, e di portarci con Lui nell'eternità. Amen.